Puntata numero 21 di Velo, non sentite gli applausi così come vi abbiamo abituato perché questa per noi è una puntata particolare per la famiglia di TV6, la riga nera che vedete in alto a destra dei vostri teleschermi da un paio di giorni rappresenta il lutto di questa televisione tutta per la scomparsa del piccolo Edoardo, tra le altre cose nipote del presidente ed editore di TV6 Luciano Campitelli, a lui, alla sua famiglia, a mamma Francesca e a papà Michele va l'abbraccio di tutto il personale di questa azienda ed ecco perché come ulteriore segno della nostra vicinanza all'editore di questa televisione, questa sera la puntata almeno dal punto di vista degli applausi sarà un po' più sobria, detto questo apertura doverosa comincio a presentare gli ospiti di questa serata, gli argomenti sono tanti, il Tour de France innanzitutto ma poi parleremo anche delle manifestazioni di casa nostra, anche quelle che verranno come il trofeo Matteotti, lo faremo con Luciano Rabbottini, ciao Luciano, ben ritrovato Buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti E poi della Farnese Vini, Roberto De Patre, ciao Roberto, ben ritrovato Buonasera a tutti A partire dalla mia destra ci darà una mano soprattutto per l'analisi della Gran Bucle ma anche e soprattutto per il trofeo Matteotti, Gilberto Petrucci, ciao Gilberto Buonasera, buonasera Jacopo, buonasera ai nostri amici che ci seguono da casa E poi lo ritroviamo a distanza di un anno, Gianluca Ciancetta, ciao Gianluca Buonasera a tutti Accanto a te Italo Leli che ci presenterà la manifestazione che si terrà in Val Vibrato Buonasera, benvenuto Buonasera, buonasera a tutti E poi anche andremo con la gara di Guarenna, il secondo classificato oramai è un abitue della nostra trasmissione, ne siamo particolarmente contenti questa sera anche in ottima compagnia Francesco Di Felice, ciao Francesco Buonasera Allora questi sono gli argomenti, tra un po' dopo la pubblicità partiamo con la puntata numero 21 di Veloa tra poco Elecom, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica Assortimento vastissimo Prezzi concorrenziali Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore Elecom, via Verrotti Montesilvano Gagliotti ricambi industriali Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più Grazie a tutti Acquistata nel mondo Taccone Bikeware Pescara Camper Vendita Camper nuove e usati Noleggio Camper e pulmini a 9 posti Pescara Camper e concessionario Giotty, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp Inoltre vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo in via nazionale Adriatica Nord a 100 metri dall'uscita dell'autostrada Vienici a trovare Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gress, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti Clindex è a manoppello, via Vallone 16 Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti La rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo 90 minuti insieme per parlare un po' di tutti gli argomenti su due ruote E vi assicuro che sono davvero tanti A partire dal Tour de France Insomma, gli argomenti li abbiamo un po' anticipati nella classica anteprima di questo appuntamento Cominciamo ovviamente con il Tour de France Con la Gran Bucle Lasciando per un attimo i discorsi di classifica Gilberto, il primo commento lo voglio da te Perché in questi giorni si è parlato Soprattutto di questo argomento legato al gioco di squadre Faccio riferimento alla tappa che ha visto l'arrivo della vittoria di Rolland Ma soprattutto quella specie di inconveniente tra i due capitani del Team Sky Tra Chris Fromm e Bradley Wiggins La maglia gialla che ad un certo punto si stacca Proprio per opera del compagno di squadra A cui viene subito detto Attenzione, fermati e aspetta Perché la maglia gialla è in difficoltà A quel punto Dato che stiamo parlando comunque della stessa squadra Secondo te la Sky ha fatto bene per un gioco Come si diceva prima di squadra Oppure probabilmente avrebbe dovuto lasciare strada libera al corridore Che in quel momento era più in forma Guarda, intanto il ciclismo è uno sport di squadra Dove ci sono peraltro delle gerarchie E naturalmente le gerarchie vanno rispettate sempre Perché comunque a mio avviso Ci deve essere sempre rispetto nei confronti di chi poi compone la squadra Poi io, insomma, dal mio punto di vista Naturalmente al di fuori Poi qui abbiamo anche dei professionisti Che ci diranno l'importanza del vincolo Naturalmente di squadra All'interno di un gruppo In questo caso Ma questo avviene comunque sempre Insomma, nel ciclismo Poi è chiaro che Certo, quando succede nel Tour de France Cosa fa un po' rumore Allora, innanzitutto parliamo del Tour de France Perché il Tour de France Comunque è una grande vetrina importante Per gli atleti E soprattutto per lo sponsor Quindi bisogna sempre valutare In quel caso il direttore sportivo Ha deciso che era meglio seguire questa strategia Ecco, insomma, perché la maglia è gialla Poi la maglia è gialla E secondo te a livello di immagine Il Team Sky è un team potentissimo Ricchissimo Che mette sul piatto Davvero tanti soldi A livello di immagine È uscito un po' ridimensionata Da questa vicenda Oppure no Oppure una cosa che Come dicevi tu prima Sono gerarchie di squadra Bisogna accettarle così come sono Però poi c'è anche l'impatto Con chi sta al di qua Del teleschermo Beh, allora È chiaro che la squadra Il Team Sky è un colosso Insomma Non è che lo scopriamo noi oggi E poi lì contano Come ti ripeto Contano soprattutto Gli asset economici Perché è chiaro che in quel momento Bisognava difendere No? La maglia è gialla Dico bene Quindi insomma Al di là del marchio Lì contava forse il vessillo Che era quello insomma Del leader della classifica E credo che in qualunque In qualunque corsa tappe Ogni squadra Si stringe attorno Naturalmente al Al proprio capitano In questo caso Dico bene Luciano la maglia Di leader della classifica Poi doveva intervenire Sul concetto Dell'interesse di Sky Anche nella frazione In cui insomma C'è stata la vittoria Di Wokler I compagni di squadra Di Evans Si sono stretti Attorno al proprio capitano Anche nel momento Di difficoltà Quindi è importante Insomma Il concetto di squadra Nel ciclismo soprattutto Luciano Prima di Di darti la parola Perché Perché so che Volevi intervenire Il problema qui Giustamente Si diceva Il problema Che qui l'attacco Eccolo Questo è il momento L'attacco Non è venuto Da un terzo È venuto Da un compagno Di squadra E la cosa È abbastanza Ha portato Più di un imbarazzo In casa Sky Perché ad un certo punto Si vede From che parte La maglia gialla Piantata Non si vede Tutti i giorni Si parte Però dopo 500 metri Si ferma Perché viene avvisato Dal direttore sportivo Sapeva i compiti Quali erano Quelli di From Che è un corridore Che è stato ingaggiato All'inizio di questa stagione Da Sky A suon di centinaia Centinaia di mila euro Partiamo un po' più indietro La Sky Si presenta nel ciclismo 4-5 stagioni fa Fa un progetto E già 4 stagioni fa Dice che voleva arrivare A vincere un Tour de France Appunto con Wiggins Perché Oggi la vittoria di Wiggins Vale 100 La vittoria di From Vale 10 Quindi A livello economico Di visibilità Di questo grosso sponsor Che è entrato nel ciclismo C'è tuttora Un grandissimo interesse Di far vincere Il Tour A questo inglese Perché? Perché ci saranno le Olimpiadi Perché economicamente Rende di più Perché c'è un discorso dietro Quindi From Ha provato Un attimo Probabilmente In un'azione di corsa A capire Se poteva Staccare il suo capitano Però Obiettivamente Poi L'azione si è chiusa In quel chilometro Di strada E probabilmente Poi c'è stato A livello mediatico Una grande risonanza Però Tu dici che è stata Una sua iniziativa? Ma lui Stava tirando Stava tirando Con la ruota Wiggins Era rientrato Su quel gruppetto E ha continuato E probabilmente Ha cercato in quel momento Anche di accelerare Per capire Che cosa sarebbe successo Però poi Il tutto Si è ridimensionato tutto Appena dopo l'arrivo Perché From Ha detto chiaramente Che Lui è al Tour de France In appoggio A Wiggins Beh insomma Gli animi Proprio all'arrivo Non erano Non erano così Però poi Wiggins non ha parlato From Ha lasciato qualche Dichiarazione Sibillina Insomma Non che la cosa Sia passata Totalmente Liscia In casa Sky Ma io Secondo me Se avesse esagerato From All'arrivo L'avrei rimandato a casa Se fossi stato Un direttore sportivo A prescindere Il fatto che Che è a due minuti Dal suo capitano Non è a dieci secondi Poteva Stravolgere il Tour Perché sappiamo Che fra alcuni giorni C'è un agronometro Dove Wiggins È super favorito Su questa Questa tappa Però ci sono Degli interessi Economici Intorno Al Tour de France Intorno A questa squadra Che sarebbe stata Un'umiliazione Per questo ragazzo Anche se Obiettivamente In questo Tour de France Sta andando Veramente forte Luciano Però nel ciclismo Anche nella storia Del ciclismo Dai tempi di Coppi E Bart Ci sono state Queste situazioni Che hanno Sempre animato E che hanno sempre Creato poi Ampia discussione Però la verità È questa Che il capitano È sempre il capitano E quindi Anche nei momenti di difficoltà Se un gregario Deve sempre mettersi Credo A mio avviso A disposizione Del capitano In questo caso Appunto La maglia gialla Di un Tour de France E poi Il Tour de France È una grande vetrina Importantissima Anche perché Proprio l'anno scorso Esattamente Gli stessi due corridori Che fecero Una frittata Alla vuelta Praticamente Consegnandolo In mano a Coppo Gli stessi due Il secondo e il terzo Quindi non è la prima volta Probabilmente Quest'anno Ci hanno pensato bene Eh Hanno fatto Si sono fatti Di conti Anche perché Non potevano Ancora una volta Sbagliare E qui come ti ripeto Il Tour de France È una vetrina Molto molto importante Io ho avuto La fortuna Di seguirne Una edizione Il 2004 E mi sono reso conto Proprio l'importanza Che ruota Attorno a questa Grande corsa a tappe Francese Dagli sponsor Dagli aspetti culturali Dagli aspetti sportivi Quindi c'è Una copertura Mediatica Straordinaria E quindi Ecco perché Non si poteva sbagliare Ed è stato bravo Il direttore sportivo Della Sky A controllare E gestire Questo frangente Che non era facile Luciano in quei momenti Mi rendo conto Roberto tu invece Come l'hai vissuto Questo Non so se L'hai seguito La vicenda In diretta Non l'ho seguita Perché ero anche io A correre in Cina Però Ho rivisto Delle registrazioni E penso che Siano state È stata una situazione Lì per lì Un attimo Di defianze Da parte di From Che ha fatto il furbo Forse provando A vedere cosa Poteva succedere Ma che tutto Nel giro di un minuto Si è risolto Nel miglior modo Anche perché Ripetiamo Che From È pagato dalla Sky Penso Exclusivamente Per tirare Aiutare Wiggins A vincere un tour Quindi non penso Che faceva Un'azione del genere Per provare a vincere O a staccare Wiggins Quindi secondo te Diciamo È stato Una cosa Uno scatto Tutto su Dei momenti Che ci sono stati Ma abbastanza brevi Senti Gianluca Invece Comunque andranno le cose Probabilmente alla fine A Parigi Wiggins arriverà In maglia gialla Però Abbiamo trovato Un italiano Da grandissime Corse a tappe Vincenzo Nibali Ce l'ha messa Ce l'ha mettendo Davvero tutta Ci sta provando Sta facendo il possibile Purtroppo contro Wiggins Così forte Soprattutto con un compagno Di squadra Di cui stavamo parlando È veramente difficile Inventarsi qualcosa Poi ha trovato Secondo me Anche un basso Non In una forma eccellente E Ecco Solo oggi Forse l'abbiamo visto Quei livelli Che gli competono E quindi Ha fatto il possibile Sta cercando di fare il possibile Però penso che a Parigi Vedremo Wiggins Quindi la scelta Di privilegiare una corsa Piuttosto che un'altra Possiamo dirlo Di fronte a un colosso Come la Sky Però è risultata vincente Perché dopo Wiggins e From C'è un italiano Sì è risultata vincente Specie se la confrontiamo Alle scelte Degli altri colleghi italiani Che magari Hanno cercato Di competere In tutte e due Le corse Ecco Di solito Quando ci si trova Più o meno In questa In queste giornate Che siamo proprio A ridosso della fine Spesso e volentieri Quando soprattutto C'è parecchio equilibrio Si sa già chi Non lo vince Cade l'Evans Non lo vincerà Non farà il bis Troppo in difficoltà Sì Avanz Diciamo Proprio Domega Aveva provato Uno scatto addirittura A 65 km Dall'arrivo Una cosa Diciamo per usare Un termine calcistico Evans Guastata Guastata Per altro Ha conquistato Tutte le prime pagine Dei quotidiani Internazionali Insomma Quindi Visto il Corriere Della Sera Che ha dedicato Peraltro Una foto In prima pagina Proprio perché L'episodio È singolare E rappresenta Anche un aspetto Credo sociale Come Insomma Dei buontemponi Abbiano praticamente Disseminato Un tratto Di Gnoti Peraltro Di 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 Strada Con dei chiodini Creando oltre 30 forature Se non Se non ricordo male Quindi è chiaro che È stato un episodio Poi peraltro Anche uomini di classifica Credo come Evans Sì Insomma Abbiano avuto problemi Quindi è chiaro che È stato un episodio Che Spiacevole Però comunque Anche Come dicevo prima Nella storia del ciclismo Ci sono di questi episodi Eccoli Questo Questo è un po' Il riassunto Della La Samba Incriminata Dove c'è Ci sono alcune immagini Proprio di forature Aiosa Luciano Secondo te Si parlava proprio A ridosso Dell'arrivo della tappa Proprio su questo episodio Del fatto che È abbastanza Clamoroso Non solo Ma soprattutto Il fatto che Non è che i ciclisti Abbiano forato In un tratto Delimitato di strada Ma abbiano forato Per parecchi chilometri Quindi Come fa Un Un ignoto A prendere Sulla strada Del Tour de France E disseminare Chiodi Così Senza che Nessuno lo veda Nessuno gli dica niente Nessuno se ne accorga In effetti Qualcuno Ha pensato Addirittura Che fosse Qualcuno All'interno Della carovana Del gruppo Una moto Del gruppo Un'ammiraglia Un qualcuno Che Ha provato A fare Veramente E creare Un grandissimo Problema Il Tour de France Comunque Questo è il ciclismo Il ciclismo È attaccabilissimo Purtroppo Il mondo del ciclismo Non è il mondo Del calcio Dove i calciatori Hanno la fortuna Di entrare In un campo di gioco Delimitato È limitato Il ciclismo Purtroppo Siamo al contatto Del pubblico E probabilmente Questa è una fortuna Perché Abbiamo popolarità Appunto Per questo Però siamo attaccabili Io mi ricordo Quando c'era Il grande Armstrong Che addirittura Al Tour Molti francesi Non potevano vedere Questo grande Campione americano Armstrong Andava in giro Con due Tre guardie del corpo Perché Appunto Il ciclismo È avvicinabile È attaccabile Chi vuole far male A un corridore Può tranquillamente Farlo Perché ha la possibilità Di poterlo Vedere a un metro Sulla strada Quindi purtroppo Dobbiamo stare attenti Però questo Questo rimane 30 forature Diciamo che Poteva compromettere Il Tour de France Anche nella classifica Ma come sempre I corridori I ciclisti Sono molto più intelligenti Di questi attacchi È stato pure molto fair play Luciano Sì esatto Sono stati molto più intelligenti Di un attacco Da un cretino di strada Capito Non solo in gruppo Anche da parte Delle ammiraglie Che hanno aiutato Corridori Di classifica Di squadre Avversarie A rientrare Questo è A mio avviso Forse il segnale Migliore Di quello che Probabilmente La generosità Di questo sport Che praticamente Nei momenti Anche forse Più difficili Che sono causati Da fatti esterni Allo sforzo fisico Ecco insomma C'è molta generosità E fair play E è stato dimostrato In questo episodio Terribile peraltro Roberto Faccio una domanda A te Il favorito A questo punto D'obbligo E Wiggins Anche per te Non ci sono dubbi Che sarà lui A vincere il Tour de France Ma penso che Al 90 Un buon 90% Vincerà lui Anche se Ho visto oggi Nipali Molto determinato Molto competitivo E domani È una bella tappa Quindi qualcosa Può succedere ancora Ti chiedo 100 km Di cronometro Non falsano un po' Una Una grande gara Fatta di 20 e più tappe Ma falsare Non penso che è falsa Perché viene fuori Sempre colui Che è più forte A cronometro È sempre un buon corridore E un buon atleta Sicuramente Influisce su coloro Che hanno le doti Da scalatore puro E sicuramente Non possono esprimersi Al meglio E non hanno trovato Un giro Un tour In questo caso Adatto alle loro caratteristiche Sono delle edizioni speciali E hanno anche Questa particolarità E sicuramente Penso che Nei prossimi anni Difficilmente Troveremo Tutti questi cronometri ancora Ecco Proprio perché Riprendevo il discorso Di Luciano prima Cioè Sembra un tour de France Abbastanza disegnato Intorno Ad una persona Esatto Più che altro Intorno a una squadra Sembrava già Tutto scritto Dall'inizio E finora Stanno rispettando Il copione Guarda Ogni anno Ogni organizzazione Ogni Percorso Alla sua Dalla sua verità In questo caso Quello che si pensava Sembra che si sta avverando E quindi Sono riusciti bene Nell'intento Sì Luciano prego Sì Secondo me poi Dobbiamo anche Mettere in risalto Che non ci sono stati uomini Che in salita Sono andati fortissimi A questo tour de France Quindi anche Se ci fosse stato Mena cronometro Vigins Avrebbe Probabilmente Vinto anche Questo tour de France Perché è in salita Che è mancato L'uomo Diciamo È vero Che quando si mette Che Quello che dici tu È giusto La mia domanda Però è Che quando ci si Fossilizza Su una Specialità La tecnica Come la cronometro È chiaro Che si va ad avvantaggiare Chi ha cronometro Va forte Ma soprattutto Penalizzando gli altri Però la storia del ciclismo In questi cento anni Ci sono stati Cento giri d'Italia Cento tour de France Non è la prima volta Che ci sono Cento chilometri A cronometro Guarda che la storia del ciclismo A volte ci sono state Cronometro Da cento chilometro In un giorno Quindi le cronometro Sono state Negli ultimi 20-25 anni Ridimensionate Notevolmente Io mi ricordo Nell'81 Non è che ho corso Con Bartel e Coppe Ho corso con gente Di Moser Saloni Trent'anni fa Nell'81 Abbiamo fatto Una cronometro Di 100 Cronometro a squadra Di 100 chilometri Cronometro La Pinerolo Torino 55 chilometri Vinta da Inò Quindi cronometro Di 50 chilometri E nella storia del ciclismo C'era anche proprio Una disciplina Peraltro Mi ricordo La 100 chilometri C'era la 100 chilometro A squadra Era una prova olimpica Olimpica peraltro Quindi assegnava Il titolo Quindi Però L'avevamo analizzato Questo tour Proprio all'inizio Del tour Quest'anno Doveva essere Un tour Più soft Rispetto All'edizione del passato E secondo me È stato duro lo stesso Perché vedendo le immagini Dei corridori Che arrivano all'arrivo In queste tappe Ci rendiamo conto Che pure se è stato Un tour soft È duro lo stesso C'era una motivazione forte Perché siamo alle porte Delle Olimpiadi Doveva essere un tour Dove Doveva portare Gli uomini olimpici In una condizione Non al massacro Quindi penso che Poi alla fine La scelta del Tour de France Dell'organizzazione Del Tour de France Non è stata una scelta Per favorire Un Team Sky È stata una scelta Della storia Di questa Grande Corsa A TAP Che quest'anno Non è stato Un tour Drammatico Il ciclismo si evolve E accettiamo Quello che ci si presenta Perfetto Chiusa la parentesi Tour de France Andiamo in casa nostra Perché c'è stata In settimana Anche la bella vittoria Di Danilo Di Luca Il Gran Premio Il Gran Premio Nobili Di Stresa Gilberto È un antipasto Quello che ci ha dato Danilo In vista del Matteotti Che penso che sia L'appuntamento Che gli preme di più Queste sono le immagini Proprio dell'arrivo Danilo sta attraversando Un buon Un buon momento Diciamo così Insomma Un momento Che naturalmente Dura con le tappe Con la tappa Vinta Al Giro Dell'Austria Poi c'è stata appunto La vittoria Il Gran Premio Nobili E ora sta disputando Che non so se corre Se parte Se ci sarà Domani Dopodomani Parterà il Giro Della Vallonia Insomma Quindi sta Continuando Il suo buon momento E poi lui punta Ma non solo lui Perché sono anche Altre abruzzesi A vincere Il Trofeo Matteotti Per la seconda volta Per esempio Chi è salito sul podio Al Gran Premio Nobili Cioè Fabio Tabor Fabio Tabor Esatto Fabio Tabor E peraltro Anche egli Pescarese Quindi Punterà Anche lui Anzi Io credo che Tabor Sarà il corridore Da battere Perché ha una buona condizione Determinato Certo Ci sarà Un gioco Di squadra Non lo so Luciano L'interno dell'acqua e sapone Che affermo campo Perché Danilo Di Luca È il capitano Taborre E' un corridore E' un corridore E' un corridore E un corridore Naturalmente Ci sarà un po' Una strategia Da pianificare Il Matteotti Non lo scopriamo oggi È una corsa molto dura Selettiva Difficile peraltro Da interpretare Saranno sempre fondamentali Gli ultimi due Tre giri Dove naturalmente Uscirà la vera corsa E quindi vedremo Che se Danilo Di Luca Che già nel 2002 2004 2004 Lui l'ha vinta Quindi questa edizione Poi c'è stata nel 2005 La vittoria di Ruggero Marzoli Quindi riuscirà a bissare Al successo Nella classica pescarese Luciano Secondo te L'acqua e sapone È la squadra Da tenere più D'occhio Per il Matteotti Oppure anche La Farnese di Roberto Insomma Comunque Possiamo dirlo Potrebbe essere una corsa Tutta abruzzese Con grandi Forti tinte abruzzese Non penso Tutta abruzzese Perché io penso E poi ce lo confermerà Non nelle squadre Ovviamente Mi sono espresso male E poteva essere equivocato Non tutta abruzzese Dicevo I protagonisti Tutti abruzzese Sì Diciamo che quest'anno Innanzitutto E poi ce lo confermerà Anche Gilberto L'edizione di quest'anno Sarà Molto più appetibile Delle ultime edizioni Perché Eh sì Grandi squadre Alla partenza Ci saranno Grosse squadre Sicuramente Però l'acqua e sapone Con Danilo Di Luca Fabio D'Aborra Donati Di Paolo Una squadra Che punta molto A questa Grande classica Hanno parecchi Corridori abruzzesi Quindi tutti Corridori Motivati E quindi Li vedo veramente Grossi favoriti Alla partenza Di quest'edizione Del Matteotti E poi Giustamente C'è la Vinifernese Roberto non è d'accordo Ovviamente L'anno scorso Grazie a Gatto Furono i vincitori Dell'edizione scorsa C'è C'è un grosso fermento In quest'edizione Speriamo che Sia Un'edizione Del rilancio Come tutti Ci si aspetta Io penso che i probabili Vincitori siano molti Perché oltre a Taborre Di Luca E i vari Gatto Che sicuramente Dovrà dare una svolta Anche la sua stagione Che in primis È andata abbastanza forte Ora sembra che Sta tornando piano piano Ai suoi livelli Ma c'è anche Il campione italiano Per Lizzotti Ci sono anche Altri tanti Italiani Che stanno andando Abbastanza forte Noi per la mia squadra Sicuramente Con Gatto E anche Con Rambottini Che non è da sottovalutare Visto quello che ha fatto Quest'anno Cercheremo la vittoria E sicuramente Ce la giocheremo Insieme ai Rival Acqua e Sapone È una specie di derby Mi pare di capire È normale Loro giocano in casa Con il team E corridori Noi giochiamo Con lo sponsor Del nostro team In casa E con i corridori Vediamo chi L'avrà meglio Senti A proposito Della tua squadra È chiaro Dopo un grande giro D'Italia La vostra squadra Essendo sotto L'occhio dei riflettori Un po' di pressione Per centrare Determinati risultati C'è? Ma la pressione C'è sicuramente Da precisare Che quest'anno Siamo partiti Abbiamo iniziato La stagione Talmente Abbiamo corso In tutte le gare Più importanti Del calendario Da precisare Che si è fatta Una campagna Nel nord Con una squadra Come la nostra La professional E siamo andati Abbastanza forti Siamo arrivati Un po' Nel gergo ciclistico Al gangio Al Giro d'Italia E ci ha salvato Un grande Rabbottini Che nonostante tutto Ci puntava Già A fine giro L'anno scorso Già pensava Di andare forte Di cercare Di fare qualcosa Di buono Al Giro di quest'anno E ci è riuscito Abbiamo vinto Un'altra tappa Con Guardini E quindi Si è concretizzato Il lavoro Anche della crescita Che si aspettava Di Guardini Ora Un periodo Un po' Così e così Ma già Di queste gare In Polonia E in Cina Abbiamo fatto Anche tre vittorie Abbiamo ottenuto Penso che Ci sarà una bella estate Da vivere Parliamone un po' Di Cina Siede reduci Da queste tre belle vittorie Dove anche tu Hai contribuito Fortemente A queste vittorie Che tipo di ciclismo Avete trovato È un ciclismo In grossa crescita In Cina Io penso Esattamente Come dici Penso che Nell'arco Di due tre anni Troveremo Andremo Tanti di noi europei A correre In quelle zone Della Cina In Giappone In Asia Tra virgolette Perché Abbiamo notato Una grande Forte voglia Di crescere Da parte loro Da parte degli organizzatori Da parte delle squadre Non europee Bensì di altri continenti Che hanno Hanno capito Che effettivamente Il territorio in espansione A livello ciclistico Sta diventando Il territorio asiatico La Cina Nonostante tutto È un giro Che se non sbaglio Più di dieci anni Che viene organizzato È partito Da un'organizzazione Di nuove tappe È passato a dieci Quest'anno Hanno fatto Tredici tappe Un altro anno Cercano di fare Sedici tappe Ciò significa Che ci stanno Investendo molto Per far sì Di rendere La gara Più importante E nonostante tutto Troviamo dei partecipanti Dove ci sono più di 60 corridori Di squadre professional Quindi Gianluca Il Pro Tour Questo è un grosso messaggio L'USI Che ha voluto In questi anni Il progetto Pro Tour E soprattutto Far crescere Quelle nazioni Che erano lontani Dal nostro movimento Questo Probabilmente È stato un progetto Vincente Dell'USI Però Ancora oggi Si fa fatica Ad accettare Le regole Pro Tour Sì Si fa fatica Ad entrare Nel concetto Della globalizzazione Anche nel mondo Del ciclismo Perché l'USI Ha attuato Una grossa campagna Di marketing E di ristrutturazione All'interno Può essere condivisa O meno Però Finora Sta dando I giusti risultati Dobbiamo renderci conto Che Stati come l'Australia O come il caso Dei paesi asiatici Stanno crescendo Veramente Un ritmo vertiginoso Insomma Potrebbe non essere Più un luogo comune Il cinese In bicicletta Sì L'Europa Insomma Non è più Il centro Ecco Assolutamente Continuiamo a parlare Di Trofeo Matteotti Subito dopo la pubblicità Tra poco Oltre 25 anni Di ciclismo agonistico Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport Con le migliori marche Di bici da corsa Mountain bike E turismo De Rosa D'accordo Coppi Carrera Passoni E le americane Scott E Merida Vasto assortimento Di abbigliamento Caschi Occhiali Scarpe Ciclo computer E la migliore componentistica Rabottini Cicli Sport Esclusivista Per l'abruzzo Delle ruote zip Se la qualità È il vostro stile Veniteci a trovare Siamo a Marina Di Città Sant'Anna Epica Un poema di tecnologia Avanzata Per la tua casa Ceramiche Idrotermosanitari Condizionamento Arredamento Materiali edili Epica Il nostro mito Sei tu Per venire incontro Alle tue esigenze A Pescara In zona aeroporto Via Fosso Cavone Nel nuovo showroom Di oltre mille metri quadrati Epica ti aspetta Con orario continuato Dalle nove Alle diciannove Dal lunedì Al sabato Nel punto vendita di Chieti Abbiamo ampliato La sala esposizione Con porte e finestre Epica Cambielli Group Leader in Italia Con centottanta filiali Tutte le strade Portano a Epica Taccone Bikewear Competizione leale Rispetto delle regole Considerazione per l'avversario Queste non sono solo regole di sport Ma anche regole di vita Il vero sportivo vince senza presunzione E perde senza amarezza Il vero sportivo vince senza presunzione A Extension Passe così Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro Enco. A Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la Ex Monti. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del truppo. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto ma proprio tutto per le pulizie della casa e tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. ELECOM, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. ELECOM, via Verrotti-Montesilvano. Di nuovo insieme, con l'appuntamento numero 21 di Velo, stiamo parlando, abbiamo introdotto a dire la verità, l'argomento legato al 66esimo trofeo Matteotti, domenica 29 luglio a Pescara. Si diceva, Luciano lo aveva anticipato, e io allora giro la parola a Gilberto, aveva anticipato, quest'anno davvero una grandissima edizione, oltre alle squadre di casa nostra, oltre agli atleti di casa nostra, saranno anche grandi squadre. La Catiuscia sta cercando di fare di tutto, anche per avere l'Omega Pharma del neocampione italiano a cronometro Dario Cataldo, che ci tiene particolarmente. Anche lui, stiamo facendo il possibile per portare anche la squadra belga a disputare il trofeo Matteotti. Ci sono dei vincoli, naturalmente occorrono minimo 5 corridori, perché il trofeo Matteotti è una manifestazione classificata 1.1, quindi non è possibile fare delle miste, abbiamo necessità di avere almeno 5 corridori al via. E poi abbiamo anche la Lampre, non ci dimentichiamo, c'è Spesialetti, che dovrebbe correre anche il trofeo Matteotti, perché insomma abbiamo da Saronni avuto delle rassicurazioni della partecipazione della squadra. E perché no, Spesialetti potrebbe anche essere, non so ora la sua condizione, se sta correndo, se forse Roberto mi potrà essere d'aiuto. Sicuramente non l'avete fatto valutare, anche perché anni indietro ha rischiato anche di vincere. Ora io ti posso assicurare che l'ho visto proprio oggi ad ora di pranzo, che era in bicicletta. Va abbastanza forte, va abbastanza forte. Quindi Roberto possiamo fidarci, insomma può dire la sua al Matteotti? Sicuramente dopo questa possibilità di partecipare dirà la sua, non si tirerà indietro, 37 anni si farà vedere sicuramente. E io sono convinto che sarà un corridore da battere. Un anno a Spesialetti arrivò secondo battuto solo da Pozzato, poteva essere veramente una vittoria, un premio, un atleta che è stato generoso con grandissimi campioni, in quell'occasione forse Pozzato poteva fare veramente un grande favore a Alessandro. Ci saranno, a proposito di campioni d'Italia, neo campioni d'Italia, ci sarà sicuramente Franco Pellizzossi, poi ci saranno anche parecchie squadre pro tour, dicevi bene, la Lampre, ma anche la Catiuscia, la Stana. La Stana, che hanno inviato appunto l'adesione appunto a partecipare al Trofeo Matteotti. Nei prossimi giorni ci sarà anche l'ingaggio, quindi conosceremo il bollettino, insomma, il cosiddetto bollettino, quindi scopriremo anche la formazione sia della Stana che della Catiuscia. Quindi un Matteotti giunto alla 66esima edizione di grande pregio, di grande insomma livello, perché naturalmente avere queste squadre, questi corridori in un momento peraltro particolare della stagione, alla conclusione delle Tour de France, alla vigilia delle Olimpiadi, non è facile, però siccome il Matteotti continua ad avere un ruolo molto importante all'interno del calendario internazionale, perché comunque è una classica che viene disputata a 66 anni, quindi 66 edizioni, quindi naturalmente vince il Matteotti, scrivere il proprio nome nell'albo del Trofeo Matteotti è davvero prestigioso e quindi i corridori che devono poi peraltro conquistarsi anche un contratto per la prossima stagione, vince il Matteotti, dico bene Luciano, significa avere una possibilità in più per sappare il contratto. Chi fa parte dell'albo d'oro del Matteotti, mi riferisco all'edizione 2011, Roberto e Oscar Gatto, che però quest'anno invece un po' sordina la sua stagione? Ma come dicevo prima bisogna riconoscere anche che lui ha iniziato la stagione facendo un calendario abbastanza impegnativo, nella prima parte da Qatar e Oman è iniziato con l'estate bianche, dove è stato sfortunatissimo, perché penso che un cancellario così era difficile battere, ma sicuramente senza due forature se la giocava diversamente. Ha affrontato una campagna del nord in sostegno di un grande Pippo Pozzato, che poi un po' con la sfortuna e un po' anche da parte di Oscar, visto che era lì e spesso si è trovato lì davanti in fuga, si poteva giocare la gara, ma è stato sfortunato anche lui. Non ha raccolto a livello di risultati, anche se a livello di prestazioni c'era, di rendimento c'era, il giro è stato un pochettino sottotono, ora dovrà rifarsi sicuramente per questo finale di stagione, visto che c'è anche un mondiale da affrontare, dove il percorso è un atleta che quando è in condizione va forte, su cui percorsi là va abbastanza bene. Vediamo un po', io penso che dal Matteotti in poi rivedremo il gatto dell'anno scorso, nei tempi passati, quando andava abbastanza forte. Certo, capitano a volte le annate in cui magari anche quando non sei al massimo ti gira tutto bene e poi le annate invece in cui la sfortuna sembra accanirsi sempre solo su di te. Io penso, dico sempre un mio pensiero, poi che le annate sfortunate sono quando cadi e ti fai male e ti rompi qualcosa. Quando sei lì che te la giochi, non vinci, ma sei sempre lì che cerchi di giocarti il risultato, la vittoria e sono annate un po' così. Non sempre si vince, il ciclismo purtroppo si compete in 200 atleti quando si fa una gara e uno solo vince. Penso che bisogna insistere e piano piano arriverà per gatto la vittoria. Anche questo è un parallelo giustissimo con il calcio, in cui ci sono due squadre e una delle due vince, invece il ciclismo è molto più complicato. Il ciclismo è il primo, insomma chi fa secondo è il primo che ha perso, si dice così, quindi è il primo perdente. Senti Gilberto, questo è un nuovo comitato organizzatore, quest'anno completamente rinnovato, abbiamo visto anche delle influenze calcistiche che ci sono proprio a proposito di calcio, vicepresidente Daniele Sebastiani, numero uno di Pescara. Sì, abbiamo naturalmente Palmiro Masciarelli, che è il neopresidente del comitato organizzatore dell'Unione Gilistica Fernando Perna, quindi una società molto antica peraltro che svolge attività a Pescara, poi abbiamo i due vicepresidenti che sono Daniele Sebastiani, lo conoscete tutti, non devo aggiungere altro, e Roberto Core, e poi l'organigramma organizzativo è più o meno lo stesso, segretario del Trofeo Matteotti, l'inossidabile Nino Bellonio, e poi il direttore dell'organizzazione è Luciano Verzella, che è una garanzia perché naturalmente è quello il quale organizza l'intera manifestazione dal punto di vista della gestione della corsa, che non è facile naturalmente perché corre il Matteotti una domenica di luglio, quindi di fine luglio, credetemi non è facile, tra autorizzazioni, tra gestire per quasi sei ore e chiudere una città come Pescara, non è facile, però grazie anche alla collaborazione di tutti, grazie alla collaborazione delle istituzioni, mi riferisco a Comune, Provincia e Prefettura, che ci danno la possibilità quindi di portare avanti questa iniziativa, credo che il 29 luglio sarà ancora una volta una grande occasione per promuovere Pescara e l'Abruzzo. Hai nominato il segretario Nino Bellonio che qualche settimana fa ci aveva anticipato che probabilmente era al vaglio anche un pre-gara, non il giorno della domenica, il giorno della gara, ma qualcosa anche il sabato. È ancora in campione? Sì, stiamo valutando appunto il sabato sera in occasione di una manifestazione di contorno, di fare proprio una, tornare con la cosiddetta punzonatura, quindi presentazione delle squadre in Piazza Salotto, dove ci sarà la sfilata appunto dei club, dei team che parteciperanno al Trofeo Matteotti. Era in programma anche per la domenica mattina una manifestazione riservata agli amatori, purtroppo la Prefettura non ci ha concesso, per motivi naturalmente di ordine pubblico e quindi di sicurezza il nulla osta per organizzare questa manifestazione che avrebbe naturalmente portato tantissimi tifosi e ciclisti poi successivamente a vedere il Trofeo Matteotti. Roberto, quando si parla di Matteotti spesso si dice una corsa complicata da interpretare, non solo per la stagione in cui siamo, sarà il 29 luglio, quindi certamente non farà fresco, ma anche il percorso non è... Il Matteotti è una gara storica e da precisare, come hai detto bene, il periodo non è uno dei più freschi, sicuramente si troveranno i 35, se non forse i 40 gradi se andiamo di questo passo. E da precisare anche il percorso che effettivamente abbiamo visto che negli ultimi anni è sempre un percorso altimetrico facile, ma abbastanza selettivo, perché è affrontato se non sbaglio 13 volte e è abbastanza duro. E' vero che la gara la fanno sempre i corridori, ma in questo periodo i corridori sono tutti agguerriti e viene sempre una gara abbastanza dura. Luciano, anche a te volevo chiedere, come si interpreta il Trofeo Matteotti, come si vince, soprattutto dove si vince il Trofeo Matteotti, se c'è una chiave per vincerlo? Beh, mi fai una domanda veramente che mi metti un po' in difficoltà, perché io il Matteotti l'ho fatto dieci anni e ancora ci capisco niente come si vince. Quante volte l'hai vinto? E allora dici come non si vince. Dico solo che veramente al Matteotti ci tenevo tantissimo a far bene, perché era ed è rimasta una delle poche occasioni per i corridori locali di mettersi in evidenza vicino il tuo pubblico, il pubblico amico. Giustamente io ci tenevo tantissimo, però venivo sempre da un momento di stagione delicato, finivo il giro abbastanza stanco, poi c'era questo Matteotti, mi preparavo, però poi il grande caldo mi metteva in grande difficoltà, sono stato sempre un corridore definito corridore del freddo, andavo benissimo all'inizio di stagione con le temperature fresche e al Matteotti era la corsa del caldo, quindi ci mettevo tanto impegno, però obiettivamente un anno penso di essere arrivato undicesimo, dodicesimo, ma in quella circostanza siamo arrivati a 13 corridori, quindi si partiva in 200, al Matteotti si arriva a 20-30 corridori se le condizioni sono ottimali. Adesso arrivano un po' più corridori perché il chilometraggio è inferiore rispetto al ciclismo dei miei tempi, il Matteotti nei miei tempi era di 250 chilometri, affronti una corsa di 250 chilometri a 37-38 gradi di temperatura, ma sull'asfalto a volte c'era superiore a 40 gradi, vi dico che in quelle poche occasioni che sono riuscito a finire il Matteotti ho fatto una buona settimana per riprendermi dalla grande fatica, perché il Matteotti rappresenta la fatica di questo sport. È un percorso che obiettivamente non è durissimo, fatto in un altro momento di stagione probabilmente viene tutto un altro tipo di corsa. Fatto l'ultima domenica di luglio, prima domenica di agosto come si faceva in passato, la storia di questa corsa cambia naturalmente perché le temperature sono decisamente calde. Poi è un percorso dove non ti dà molto recupero, questo circuito molto bello, affascinante, in effetti Alfredo Martini su questa corsa ha messo sempre un grande punto di riferimento per le sue squadre nazionali perché si addice molto ai circuiti mondiali, quindi prendeva molti spunti da questa corsa, però è una corsa affascinante, è la corsa abruzzese, speriamo che anche in questa edizione i corridori abruzzesi, che noi seguiremo con molta attenzione, sappiano far bene. In un Albo d'Oro dove c'è stato Tannino Di Luca, c'è stato Marzori, ma c'è stato un grande Vito Taccone che è stato il primo vincitore nel 64, non mi ricordo l'età, però forse Taccone in quell'edizione fece esplodere Pescara dall'entusiasmo che riuscì a dare a Pescara con quella grande giornata di sport. Quindi anche in questa edizione cercheremo di vivere il Matteotti come l'abbiamo sempre fatto, con quel grande entusiasmo e con quel grande amore che questa città dà a questo sport. Senti, però tu non l'hai mai vinto, l'hai detto poco fa, però non è detto che un Rabottini sull'Albo d'Oro non possa esserci, anche già quest'anno, perché so che Matteo, mi hai detto prima, si sta preparando, perché immagino che anche lui nella gara di casa ci tenga particolarmente a fare bene. Sai, Matteo è imprevedibile, è un ragazzo che siamo abituati a... Lo abbiamo imparato a conoscere, soprattutto sui pedali. Negli ultimi anni ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, delle grandi sorprese. La vittoria al Giro d'Italia, quest'anno obiettivamente sì, ci si aspettava un grande Matteo nella terza settimana, poi questa vittoria eclatante obiettivamente non ce l'aspettavamo, eppure ce l'ha regalato. L'anno scorso al Matteotti, Matteo non è andato male male alla sua prima esperienza, quindi lo finì dietro il gruppetto di primi. Secondo me non è un corridore adattissimo a queste grandi temperature, però, come vi ripeto, è un corridore imprevedibile, ci dobbiamo aspettare di tutto, e speriamo che il Matteotti, se non quest'anno, ma nei suoi progetti prossimi futuri, ci possa essere questo grande appuntamento. Quindi anche lui è un corridore che va meglio quando la temperatura è un po' più bassa, d'altronde la tappa del Giro d'Italia che ha portato a casa, quella di Pian de Resinelli, era una giornata tutt'altro che serena, anche lui non... Ma lui si difende molto meglio di me con le temperature calde, però il Matteotti rappresenta proprio, penso, l'appuntamento principe del caldo. Basta vedere l'albodoro di questa manifestazione, e mi sa in un paio di edizioni fu vinta da un certo Marino Amadori, che non era un fenomeno di corridore della mia generazione, però quando arrivava il caldo questo si trasformava. Quindi che cosa faceva? Il Matteotti era la sua corsa, si metteva lì, non sudava nemmeno, noi andavamo alla partenza già al momento della firma, eravamo bagnati di sudore. Lui si prestava molto a queste temperature, quindi ci vuole pure un corridore che si adatti a queste calore che c'è in questa manifestazione. Quindi poi adesso con i chilometraggi inferiori questa grossa difficoltà... Si recupera quel gap. Sì, quella grossa difficoltà del caldo si sente meno. Invece nel passato, 250 km, obiettivamente... Arrivava solo la bici praticamente, il resto era... E io ricordo che lo scorso a Gilberto ci siamo visti in sala stampa, sembrava aver corso anch'io, invece non avevo toccato, non avevo visto nemmeno da lontano la bici. Benissimo, domenica 29 luglio, allora appuntamento da non perdere. Volevo solo dare una postilla, mercoledì 25 ci sarà la presentazione ufficiale, il trofeo Matteotti, presso la sala blu della regione Abruzzo in Viale Bovia Pescara, ore 11, quindi sveleremo squadre, partecipanti e soprattutto il Matteotti edizione 2012. Numero 66, quindi non perdetevi, due appuntamenti, la presentazione mercoledì e poi soprattutto la gara. Domenica 29 luglio, Gilberto tu so che ci dovrai abbandonare tra qualche minuto, così come, se non erro, anche Italo Leli. Allora anticipiamo un po' il discorso prossimi appuntamenti, perché Italo Leli ci viene a presentare una manifestazione che si correrà nel suo territorio, e terzo trofeo città-territorio della Val Vibrata a Nereto, sabato 21 luglio. Ecco, ne vogliamo parlare, terza edizione. Benissimo, parlare di ciclamatori dopo aver parlato di tour, di tanti campioni non è facile, comunque ci vogliono anche loro, diciamo, no? E niente, questa è la terza edizione, la seconda è stata un successo e speriamo di fare meglio nella terza. Gli amatori Italo sono la forza di questo movimento, quelli che regano il mercato, che comprano le biciclette, quindi se c'è il professionismo, se c'è il Matteotti, se c'è il Giro d'Italia, se c'è il Tour de France, grazie a un mondo amatoriale che poi alla fine comprano, creano mercato e quindi dobbiamo rispettare anche loro. Ma sicuramente è il settore, diciamo, sono i settori trainanti delle aziende italiane, quindi, diciamo, il ciclamatore oggi forse non è ben visto in giro, però quando, diciamo, si organizzano certe gare, i ciclamatori, spesse volte non sono ben organizzate, quindi non sono ben viste, però se, diciamo, una gara viene ben organizzata, la gente segue, la gente viene, assiste. Voi siete alla terza edizione, nelle due edizioni passate siete stati probabilmente il fiore all'occhiello e l'organizzazione è stata veramente magistrale. Che cosa adesso pretendete da questa edizione di sabato prossimo? Soprattutto organizzate su un territorio nereto, che vogliamo ricordarlo, è un territorio molto vicino al movimento ciclistico, sia nel mondo amatoriale, ma anche nel mondo del ciclismo giovanile, tra gli esordienti, giovanissimi, allievi, juniores, quindi è un territorio dove producete ciclismo. Sì, effettivamente, diciamo, ho avuto tante telefonate, diciamo, di gruppi, di ragazzi, giovani, tra l'altro, pure oggi, parlando con, si chiama Valentino Sciotti, Valentino Sciotti che mi ha detto che viene, anche a questa manifestazione, e viene pure, porta pure Matteo, quindi presenza di eccezione. Eccezione, poi ci sarà pure Taborre, verrà Ciavatta, e quindi sarà un po' la festa del ciclismo. In un comprensorio che, come diceva giustamente Luciano, produce ciclismo proprio perché si presta a fare sport, in questo senso, non solo il comune di Nereto, anche gli altri territori della Val Vibrata, ricordiamo che comunque siamo alle porte, e la Val Vibrata è la porta, verso un'altra regione confinante, che sono le Marche. Ma sicuramente, diciamo, è un territorio che, sono dei percorsi bellissimi, si presta tantissimo. Che poi, tra parentesi, la Val Vibrata è stata presa più volte, come location, per esempio, Giro d'Italia Baby, sia quest'anno, che l'anno scorso è stato meta anche del Giro d'Italia, di avvenimenti importanti, ricordo l'anno scorso, per esempio la partenza da Tortoreto, quindi, insomma, anche dal punto di vista dei grandi eventi, sono un fattore trainante, anche per chi, come un amatore, decide la domenica o il sabato, nel vostro senso, di fare sport. Ma gli amatori, ripeto ancora, come diceva giustamente pure Luciano, gli amatori spesse volte non sono ben visti. Perché secondo lei? Ma, secondo me, come ripeto, perché, diciamo, quando si organizzano queste gare, di ciclamatori, non sono ben organizzate, non c'è assistenza, allora, io ripeto, bisogna farne meno, e ben organizzate, questo è importante e fondamentale. Ma non c'è assistenza per... Ma parliamo di assistenza, parliamo di i percorsi che non sono protetti, non c'è la protezione civile, quindi diventa difficile, dipende. Il territorio terramano, tra l'altro, nel mese di settembre, ospiterà le ultime tappe del Giro d'Italia di Lettanti, che si sta disputando dal mese di maggio, un Giro di Lettanti amatoriale, scusate, che si sta disputando dal mese di maggio, sono manifestazioni a tappe, compreso delle Gran Fondo al Nord, quindi nel mese di settembre, sul territorio terramano, ci saranno appunto le ultime tappe di questo bellissimo Giro d'Italia per amatori. Anche dal punto di vista dell'organizzazione, diceva bene lei, magari ha delle difficoltà in più, però anche le istituzioni, come vedo, dalla Locandina, vi sono state vicine, i comuni, anche la provincia, anche la regione. Sì, diciamo di sì, sotto questo aspetto, ho avuto delle belle risposte. Va bene. Comunque, sabato alle 15.30, la partenza, sia della prima che della seconda serie. Ci sono due percorsi, quindi? Due partenze, però, diciamo, separati. Perfetto, sabato 21 luglio, terzo trofeo, città, territorio, Val Vibrata, pedalando per le più belle strade della Val Vibrata, e ce ne sono, ve lo assicuro, davvero tantissime. Prima di andare in pubblicità, l'ultima per questa sera, e poi andremo con il rush finale, perché dobbiamo parlare ancora di due manifestazioni importanti, con due ospiti. Ringrazio Gilberto Petrucci, per la solita disponibilità. Grazie a voi. E vi aspetto al trofeo Matteotti, domenica 29 luglio. Assolutamente, ci saremo, e ringrazio, faccio l'in bocca al lupo ad Italo Leli, in bocca al lupo per il terzo trofeo città, territorio della Val Vibrata. Speriamo che sia una bella manifestazione. Ci fermiamo per l'ultima volta, per questa sera, e poi rientriamo con Guarenna, e poi con la Kids Cup, a tra poco. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi, Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni, e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer, e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo, delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Aggio. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara e zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, grass, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968 utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. A Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la Ex Monti. in your eyes. You fell for life into its traps Now you wanna bridge the gaps Now you wanna bridge the gaps Now you want that person back And all your ammunition's gone Run out of fuel to carry on You don't Gagliotti Ricambi Industriali Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Pescara Camper Vendita Camper nuove e usati Noleggio Camper e pulmini a 9 posti Pescara Camper e concessionario Giotty, Terry, Illusion Infinity, Blue Camp Inoltre vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper e a Marina di Città Sant'Angelo in via nazionale Adriatica Nord a 100 metri dall'uscita dell'autostrada Vienici a trovare oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it www.pescaracamper.it Aran Aran la cucina italiana più acquistata nel mondo Eccoci insieme di nuovo ultima parte di Velo abbiamo parlato del trofeo Matteotti adesso per rimanere a casa nostra ma in ambito più recente parliamo di una manifestazione che la settimana scorsa non so se ti ricordi Luciano aveva presentato proprio il presidente Riccardo Rollo si tratta della Kids Cup si è tenuta a Pescara presso l'ex caserma Cocco organizzato dalla ASD Green Bike Ciancetta Gianluca allora parliamo di questa manifestazione Ricordiamo per piccoli dai 6 ai 12 anni si è una manifestazione di fuoristrada giovanile dai 6 ai 12 anni per il secondo anno consecutivo ci siamo ritrovati in questo parco della nostra città per 6 batterie più una promozionale aperta anche a chi non era tesserato quindi si è presentato lì la mattina e ha avuto la possibilità di competere su un tracciato ricavato proprio all'interno di questo parco anche datoci dal dal comune e dalla provincia che hanno patrocinato questo questo evento ecco queste sono le immagini proprio che si riferiscono alla Kids Cup senti ma è vero che magari il bambino quando è così piccolo è più interessato magari a un tipo di attività come la mountain bike piuttosto che andare subito su strada magari ha qualche particolarità in più e quindi si avvicina più volentieri sì la mountain bike sicuramente esalta molto di più la componente tecnica e ludica specie ludica nelle categorie più piccole e poi inutile dire i vantaggi che possa portare un'attività di questo tipo in questa età l'off road ultimamente diciamo ci ha portato alla ribalta abbiamo visto nei grandi corsi a tappe ex rider quindi dobbiamo ecco prenderne atto e dedicarci anche a queste attività specie nelle categorie più piccole ecco a proposito di attività ludica so che per esempio non venivano premiati i singoli atleti ma venivano premiati giustamente le squadre perché lo si fa sempre in nome comunque del divertimento di una giornata che deve essere comunque particolare senza l'assillo del risultato sì sì la particolarità da quest'anno le categorie giovanili hanno la premiazione effettuata per società quindi diciamo che il regolamento vieta gli ordini di arrivo come lo stile classico primo, secondo e terzo ma per ogni batteria vengono assegnati dei punti ai ragazzi che poi vanno a determinare una classifica per società e quindi in questo caso la Kids Cup che è proprio la coppa della manifestazione viene assegnata alla società vincitrice che ha realizzato maggior punti anzi ecco colgo l'occasione per nominare i vincitori che per quest'anno sono stati i ragazzi del team Superbike di Castelfidardo quindi è un team marchigiano e secondo il secondo team invece è il pedale Morvallese e terzo i ragazzi della Bruzzo MTB Protec quindi diciamo una partecipazione come l'anno scorso molto ampia e questa tappa fa parte anche fuori dai nostri confini regionali perché questa Kids Cup fa parte di un challenge interregionale a Bruzzo Marche che prevede diverse tappe e che si concluderà domenica prossima proprio con una gara organizzata dal team Probike di Castelfidardo volevo fare una domanda Gianluca manifestazione questa federale però voi avete aperto anche ai non intesserati che tipo di risposta c'è stato dal pubblico generico Gianluca? Sì abbiamo cercato di spingere un po' la promozione di questo evento anche a chi non è proprio addentro al discorso federale oppure non è già iscritto nella società sportiva proprio per cercare di avvicinare più ragazzi possibili alle due ruote la risposta è stata discreta considerando che abbiamo avuto poco tempo per fare promozione e questo sarà sicuramente uno dei punti fondamentali per la prossima edizione cercare di spingere molto di più la partecipazione a chi non è tesserato Parco della Caserma Cocco è una bellissima location per manifestazioni del genere si potrebbe sfruttare meglio questo Parco di Pescara per manifestazioni del genere o per qualcos'altro? noi come società come Green Bike Club Ciancetta che quest'anno colgo l'occasione per sottolineare compie 40 anni di attività stiamo cercando di attuare un programma particolare cioè organizzare una serie di eventi e tra questi qualcosa di alternativo il Parco si presta anche a manifestazioni un po' più particolari quindi non nego che ho pensato anche a qualcosa che potesse riguardare la BMX che è una di quelle discipline in forte espansione certo ci sono dei limiti di tipo tecnico perché il tracciato di BMX è un po' più articolato però abbiamo ecco stiamo pensando anche a questo in futuro una delle menti ispiratrici anche delle vostre attività è Melania Iezzi che volevi citare particolarmente Melania Iezzi che è la segretaria della nostra società l'idea è stata sua l'anno scorso io ero un po' scettico perché sono un po' più legato al discorso della strada un po' più alla parte agonistica ecco perché la nostra società organizza anche la Pescara Castiglione che è una classica in linea per allievi alla 22esima edizione quindi ci spaventava un po' questa avventura nelle categorie giovanili però diciamo che è stata un'idea vincente perché insomma il pubblico c'è e i ragazzi si divertono senti quindi questa è una manifestazione come ce ne sono tante altre che però possono essere da di ispirazione anche a livello secondo te in altre zone della nostra regione possono fare da modello per far avvicinare sempre più ragazzi che magari come dicevo all'inizio magari non vogliono per forza andare su strada ma a cui piacciono percorsi un po' particolari diciamo che questa è l'attività ideale per avvicinare i ragazzi di quell'età alle due ruote senza esasperare il discorso prestazionale diciamo che l'Abruzzo nel settore MTB si sta dando molto da fare con i responsabili regionali della federazione anche a livello amatoriale il gruppo è molto numeroso e diciamo poi l'Abruzzo è inutile sottolinearlo qui voglio dire chi se non l'Abruzzo con i suoi parchi può lanciare il settore MTB anche perché altrimenti poi si corre il rischio di dover dire bravi a chi fa mountain bike magari all'estero e invece noi l'avremmo qui è un peccato non sfruttare magari loro vanno ad inventarsi dei percorsi su dei tracciati che nemmeno esistono per la mountain bike all'estero invece noi con 30 km con mezz'ora di macchina siamo in quote con tracciati fuori strada ben delineati quindi si può fare tranquillamente senti vinto lo scetticismo l'anno prossimo ci sarà un'altra edizione sì è sempre molto difficile dirlo subito dopo l'edizione attuale cercheremo di cambiare leggermente la formula proprio per favorire come dicevo prima come dicevo prima l'avvicinamento di ragazzi che sono fuori dal circuito prettamente federale stavamo pensando anche a forse un mini camp di due giorni con una giornata di con i maestri mountain bike federali e poi un mini saggio la domenica saggio gara la domenica potrebbe essere un'idea anche perché sulla mountain bike bisogna anche saperci stare poi al di là delle frasi fatte esatto quindi ecco pensavo una giornata del sabato propedeutica con alcuni istruttori federali e poi la domenica diciamo una verifica sul tracciato a proposito di attività su strada grazie Gianluca per la spiegazione di questa manifestazione davvero molto interessante seconda edizione della Kids Cup a proposito di attività su strada e allora lo ritroviamo con piacere Francesco Di Felice che eri anche la settimana scorsa sei venuto a trovarci se non erro però per altri per altri tuoi impegni stasera ti ritroviamo secondo classificato al settimo Gran Premio Guarenna 2000 non è arrivata la vittoria tra un po' vedremo anche le immagini però i risultati stanno arrivando ma i risultati di quest'anno stanno arrivando essendo anche un primo anno sono abbastanza soddisfatto e niente adesso ci sono domenica c'è il campionato provinciale di Pescara la Pescara Rocca Garamanico gara se ne parla molto molto impegnativa speriamo di migliorare il risultato lì senti una corsa quella di Guarenna 71 km se non erro una media molto alta oltre 38 è stata una gara combattuta vinto Andrea Cacciotti un Laziale comunque eravamo più di 120 iscritti oltre al numero c'era la qualità perché c'era anche il campione italiano Daniel Marcellusi che questa stagione la sta dominando comunque c'erano corridori molisani della Basilicata delle Marche di tutte le regioni qui vicine molto forti la gara si è fatta subito forte dai primi giri con un percorso che era un saliscenti poco impegnativo e poi si andava ad affrontare questa salita all'ultimo giro che è stata decisiva è stata decisiva per la gara benissimo secondo posto allora queste erano le immagini andiamoci a sentire i commenti post gara della giornata del Gran Premio 40 oggi è stata una corsa molto dura prima di fare la salita sono partiti molti corritori sono rimasto nel gruppo a risparmiare la gamba poi appena iniziata la salita ho cominciato a menare ho ripreso a 1 a 1 ho vinto il GPM sono scoricato con 40 secondi e sono riuscito a portarmi fino all'arrivo molto dura la prima di questa stagione speriamo in molte altre questo percorso com'è stato? molto duro a tratti del vento contro la salita nell'ultimo pezzo molto dura ma oggi doveva arrivare perché dopo una serie di delusioni l'aspettavo molto questa vittoria queste sensazioni non venivano dall'anno scorso sono riuscite finalmente a arrivare speriamo a meno altre 2-3 corse da conquistare quest'anno Francesco Di Felice il secondo classificato di questo settimo Gran Premio Quarenna Francesco ci hai provato sei andato in fuga poi alla fine un secondo posto e quale puoi essere contento? no sì contento perché sono primo anno ma oggi andavamo per la vittoria peccato abbiamo fatto un buon lavoro con la squadra ringrazio la squadra che nei giri mi ha aiutato anche ci ho provato niente è stato più bravo Cacciotti un merito a lui è stata una gara dura? sì è stata dura soprattutto tutti i giri in pianura avevamo sempre un ritmo molto alto la salita l'ha anticipato il campione italiano Marcellusi poi l'abbiamo ripreso e Cacciotti è partito noi l'abbiamo fatta regolare peccato un secondo posto che rafforza la tua posizione di leadership in classifica regionale questo? sì sì questo primo sono migliorato molto dall'anno scorso anche nella classifica di primo anno nazionale mi trovo bene e niente sono soddisfatto di quest'annata lo dedico a tutta la squadra al presidente Antonio Dottore Dario Di Giovanni Gabriele Di Giovanni un grazie soprattutto al mio DS Pasquale Roberto che ormai è da tre anni che è con me poi niente a tutta la squadra e alla famiglia che fa tanti sacrifici c'è soddisfazione perché è stata una bella corsa abbiamo dato il meglio e è venuto solo un terzo posto però ci accontendiamo questo percorso troppo pianeggiante? no no è abbastanza impegnativo perché metri di pianura ce n'erano pochi tutti i sali e scendi e nel finale una salita molto impegnativa non tanto lunga però competenze che si facevano sentire i tuoi prossimi impegni? i tuoi prossimi impegni? la prossima settimana faremo la pescara Rocca Caramanico organizzata dalla mia società partiremo da San Silvestro e arriveremo nella maiella a Rocca Caramanico allora invitiamo tutti a partecipare a questa gran bella gara sicuramente certamente sarà una speriamo che esca una bella corsa complimenti grazie siamo con Matteo Del Rosario campione italiano su pista quest'oggi si è cimentato sulla strada come è andata Matteo? diciamo abbastanza bene oggi diciamo ho aiutato il mio compagno di squadra che diciamo sulla salita se la cava meglio di me alla fine ha fatto quinto quindi abbastanza soddisfatto senti quest'oggi hai provato sulla strada è così diversa dalla pista? la specialità che faccio la velocità essendo solo 200 metri è completamente diversa perché sulla strada lo sforzo è più lungo mentre 200 metri sono quei 200 metri e basta penso di fare qualche altra gara su pista sopra nel nord Italia comunque continuare le gare su strada ad esempio penso che verso la fine stagione farò Coppa d'Oro Coppa d'Idi gare così Daniele Borrelli campione provinciale oggi rimasto fuori dal podio davvero per un soffio sì ho provato ad anticipare la salita solo che a 500 metri alla fine mi hanno ripreso non sono riuscito a stare col vincitore poi per il podio si è deciso in volata le altre due posizioni del podio ma per poco sono rimasto fuori cosa pensi di aver sbagliato se pensi di aver sbagliato qualcosa? ma secondo me niente perché il secondo e il terzo erano molto più veloci di me ho provato a prendergli la ruota ai 200 metri alla fine ma non sono riuscito a passarli e queste erano le voci dei protagonisti tra cui proprio Francesco che è arrivato secondo indossavi tra le altre cose anche la maglia di campione regionale a Lievi e Luciano so che volevi fare una battuta sull'organizzazione di questo evento sì innanzitutto sulle immagini del solito bravissimo Toni Di Matteo che tu fai bene ogni volta che io dimentico ogni volta ma ringraziamo sempre dell'ottima collaborazione che dà al progetto di Velo sì volevo dare due battute su questa organizzazione soprattutto curata dal gruppo sportivo Guarenna 2000 del presidente Severino Rossetti che da anni si prodiga nel Val di Sangro per portare avanti il ciclismo giovanile ma soprattutto queste manifestazioni una manifestazione che è arrivata alla settima edizione su un bellissimo percorso nella Val di Sangro quindi non durissimo anche se poi la parte finale con l'asperità di Selva di Altino c'erano difficoltà importanti dove c'è stata selezione però dico bravi agli organizzatori perché questo perché hanno fatto una corsa abbastanza tranquilla nella prima parte dove tutti i ragazzi possono dare le loro possibilità e poi nella parte finale fare il tratto difficile impegnativo dove poi si vede alla qualità degli ordini d'arrivo quindi complimenti a Severino Rossetti e soprattutto complimenti a un ottimo direttore sportivo che è Tonino D'Alonso che da anni collabora con questa squadra e da anni ogni anno riesce a portare alla ribalta i grandissimi corridori quindi un appuntamento che sicuramente questa organizzazione ci dà alla prossima edizione del prossimo anno e complimenti per il grande lavoro che ha fatto a proposito di organizzazione un piccolo excursus organizzazione interna ti dico che ci hanno fatto i complimenti per le penne perché di solito io e te portiamo le penne abbiamo il vizio di fare ci hanno comperato delle pic senza nemmeno il tappo quindi abbiamo ricevuto dei complimenti senti Francesco oltre ai complimenti per il secondo posto ci hai detto i tuoi prossimi impegni quando ti ho presentato ho detto che sei in ottima compagnia ma non ho spiegato perché vogliamo spiegare dietro le quinte non si vedo però ci sono i tuoi nonni che ti hanno accompagnato questa sera si chiamano Giovanni e Margherita che ti sono sempre vicini oltre che negli studi televisivi anche su strada tutti i giorni quindi ti seguono sono proprio degli allenatori veri e propri complimenti in bocca al lupo per i prossimi tuoi impegni i prossimi impegni di Roberto De Patre invece al 90% parteciperò al Matteotti dopodiché a metà agosto vado in Francia per partecipare a una gara di quattro giorni e dopo con il calendario italiano trittico e via dicendo senti 90% perché? come si parlava prima all'inizio trasmissione ci sono delle direttive di squadra penso di farlo anche perché per noi abruzzesi è sempre una gara in casa ed è l'unica gara che c'è ora vediamo un attimo con la squadra come un accordo e giustamente bisogna anche valutare le condizioni fisiche bisogna non solo partecipare a che si corri in casa ma essere anche utili per lavorare e per ottenere un successo e quella è la prima cosa più importante senti tanto oramai siamo a fine trasmissione quindi possiamo possiamo un po' alleggerire il tono ti dicessero a pochi chilometri dal traguardo del trofeo Matteotti ti devi fermare perché c'è il capitano che deve vincere se ho la sicurezza non al 100% ma al 99% di poter vincere faccio finta che non sento la radio invece ma devo giocare è meglio aspettare il capitano che lui è pagato per vincere e ha dimostrato di saper vincere mentre io ancora ho tanta strada da fare bravo complimenti per la sincerità davvero ovviamente in bocca al lupo anche a Gianluca Ciancetta per i prossimi appuntamenti speriamo di ritrovarti ogni anno ti ritroviamo e ne siamo contenti magari vienici a trovare qualche volta di più qualche volta di più e allora cominciamo con i prossimi appuntamenti uno lo abbiamo già detto lo ripetiamo sabato 21 luglio 2012 a Nereto terzo trofeo città territorio della Val Vibrata questo sabato invece domenica per gli allievi a Pescara Pescara Rocca Caramanico assolutamente la partenza alle ore 10 per gli esordienti primo e secondo anno a Ripoli di Mosciano organizzazione ASD Veloclub Mosciano per i giovanissimi su strada ad Avezzano Memorial Pierpaolo Tiburzi partenza ore 10 per la mountain bike a Gamberale una manifestazione organizzazione ASD Bike Inside Team è tutto per il 21esimo appuntamento con Veloc questa puntata ricordiamo molto particolare allora ringrazio come di consueto Luciano Rabottini ciao Luciano ci vediamo giovedì prossimo buonasera a tutti in bocca al lupo a Roberto De Pate grazie per essere stato in nostra compagnia grazie a voi Crepilupo grazie a Gianluca Ciancetta buonasera a tutti speriamo di rivederci come promesso più spesso grazie e in bocca al lupo anche a Francesco di felice grazie e ti rivolgiamo quanto prima qui magari non con un secondo posto con un primo è tutto per questo appuntamento con Veloc ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 21 sempre su TV6 buonasera grazie a tutti grazie a tutti